Musica Dopo il rinvio per il maltempo dell'appuntamento in programma il 10 marzo, a Quarrata si è svolta l'ultima delle tre sfilate del Carnevale realizzate dall'associazione Carnevale di Valenzatico. Con tre carri, uno dedicato alla favola, alla cicale e alla formica, uno Dragonland e uno al film di animazione Coco, la Quarrata è festosa parata attraversato Quarrata, lungo via Montalbano sino a piazza Risorgimento per percorrere via Trieste, piazza Fabri, piazza della Costituzione, via Corrado da Montemagno, via Roma e quindi tornare nella principale piazza della città. La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con l'amministrazione comunale di Quarrata, il patrocinio di Provincia di Pistoia e Regione Toscana e il sostegno di commercianti e artigiani di Valenzatico e di Banca Alta Toscana, anche quest'anno affiancando al divertimento la solidarietà. Si cerca di andare avanti, spinti proprio da questo discorso di gioia, divertimento e solidarietà verso il Meyer. Ormai il Meyer è diventato il nostro beneficiaio del costo per il contributo della lotteria e quindi un divertimento vicino a bambini che stanno peggio di loro, sono meno fortunati. E questo è il segreto del nostro carnevale, divertirsi ma pensare veramente a tutti, anche a quelli che attraversano difficoltà.